Musica Ben tornati sul canale di Axios 00 Ben tornati ad un episodio di Animal Crossing New Horizons Guardate la finestra lì dietro E' sereno quest'oggi a quanto pare E' sereno, bellissimo Il fatto che si possa vedere già da qui che tempo fa fuori E' stupendo Mi piace veramente, veramente tanto, ma proprio tanto Bello C'è stato il primo aggiornamento Effettivamente consistente Nel senso che hanno aggiunto effettivamente un bel po' di roba Il... Ha aggiornato il gioco alla 1.2 Vediamo un attimo Il primo aggiornamento Veramente possiamo dire che era il day one In pratica Quando avevano già aggiunto la roba di Pasqua Eccetera Però, 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 però Noi procediamo così E vediamo un po', scopriamo insieme che cosa ci sarà di nuovo Salve Fuffi Ok, Gertrude Si sono aperti i festeggiamenti legati alla giornata della natura Infatti inizia da oggi il festival della giornata della natura E sono curiosissimo di vedere esattamente Toccare con mano che cos'è questo aggiornamento Perché i video del video Nintendo appunto che ha fatto uscire Sono rimasto abbastanza incuriosito Da quello che ci sarà di nuovo nel gioco Io oggi non sto parlando d'Italia Lo sto parlando di una lingua molto particolare Quindi vi preoccupate se non capite quello che dico Tutto regolare Lo siete voi Sono io Allora Questa è un'occasione perfetta per incoraggiare tutti a rispettare la natura Brava Tutte le attività speciali previste proseguiranno fino al 4 maggio Rendiamo il futuro più verde E ora passiamo agli altri annunci di oggi Una nuova amica ci ha raggiunto a Gertrude Un caloroso benvenuto a Dulcinea O Dulcinea Dannazione Sono veramente felice di avere una nuova amica sull'isola Anch'io E c'è dell'altro Grazie alla fuffissima partecipazione di tutti gli affari Alla bottega di Nook vanno a gonfie vene Yeah Grande Grandi così Per lui Non per noi Però va bene Non per Mirko e Marco Per Tom Nook Che è lui che gli da da lavorare Comunque vanno tanto bene Che lo spazio in negozio ormai non basta più Si stanno ampliando Ed è per questo che la nostra coppia preferita di fratelli imprenditori È in programma di ampliarlo e rinnovarlo Yes Domani il negozio resterà chiuso per i lavori Non sarà disponibile neanche la cassetta deposito oggetti Perciò se avete urgenza di comprare o di vendere qualcosa fatelo oggi prima dell'inizio dei lavori E con questo torno al mio lavoro Sostenervi e farvi amare la nostra isola sempre più Ragazzi Si espandono? Seriously? Ci sono le espansioni dei negozi perciò qui Wow Tra l'altro avevo ancora la posta da leggere Ma sono dettagli perché siamo noi Vado subito a vedere chi è che ci scrive Prima di leggere la posta Tra le altre cose io mi sono liberato un po' delle tasche Ho di tutto qui praticamente Ho messo di tutto in giro Però il globo è bellissimo È qualcosa di stupendo E i misfrizi sopra questa cosa qui Sono bellissime quelle di Ovidio Sono veramente spettacolari E volevo ringraziare particolarmente Silvia dell'Isola Relax Per avermi donato il poster Guardate un po' C'è il Resetti Il nostro Resetti è bellissimo Grande Resetti Grazie mille Silvia Grazie mille davvero di cuore Per avermi donato Questo poster Ne sono felicissimo Stra stra felice Io adoro Resetti Quindi alla grande così Allora posta dicevo Veniamo un po' a chi è che ci scrive Ivano dovrebbe darci in teoria Esatto ragazzi 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 Oggi non ne becco una Ho terminato la mia replica di una Di una cridacinerea Ho lavorato istancabilmente per realizzare qualcosa che ti piacesse E spero di esserci riuscito Quello scarabeo Lì in basso a sinistra è abbastanza inquietante Credo che ti porti ulteriori insetti nel cuore Io spero di no Onestamente ma va bene Prendiamolo Ok Eeeh Non lo so Dove la dovrei mettere Una cosa del genere Soprattutto Che cos'è? Quanto è grande? Ho anche una ruota colorata Poi vedremo un po' com'è qui fuori Ma Oh Per l'amor del cielo Che cos'è? Aaaaa No 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 Di dimensioni umane no Anzi Non mi danno fastidio Ma una cavalletta di dimensioni umane Preferisco evitarla Onestamente Decisamente Nintendo Che dice Ti ringraziamo di aver scaricato l'aggiornamento Ah ma prego Ecco un piccolo regalo da parte nostra come segno di apprezzamento A presto E non perderti i prossimi aggiornamenti E ci mancherebbe altro No 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 Vi preoccupate Li seguirò tutti La banca di Nook Ti scriviamo per informarti che abbiamo abbassato il tasso di interesse applicato al tuo conto Ti preghiamo di accettare questo dono in segno di scuse Grazie della fiducia accordataci Come hanno diminuito il segno di interesse? Mi hanno tolto gli interessi pure Ma come? Per festeggiare la giornata della natura abbiamo organizzato una campagna miglia di Nook Plus Che durerà da oggi fino al 4 maggio Vieni a trovarmi al centro servizi per maggiori informazioni Ah Tom Nook Ok si ma mi hanno diminuito gli interessi ragazzi Non va bene sta cosa Cioè No Non si possono diminuire così gli interessi a caso Mi hanno regalato un planisfero e Che cos'è questo? Il tappeto sacco di stelline Mi verrebbe da metterlo al posto di questo Aspettate un po' Vediamo un po' come ci sta No non voglio lasciarmi Si può mettere solo in casa il tappeto non fuori quindi Questo è un peccato Perché io in pratico ho appena tolto una cosa che mi poteva essere utile qui davanti Ma va bene D'accordo Aspettate un po' Andiamo a vedere come è questo tappeto sacco di stelline Sono curioso Sembra una cosa carina obiettivamente Credo sia il regalo di Tom Nook appunto Perché giustamente è Tom Nook che ci dà il sacco Vabbè Sacco di stelline Sì certo Il tappeto sacco di stelline Che è Danna No aspettate È bello È fantastico Però Parliamone Ma come non c'è spazio? Ma come Ma ci stava prima? Ma come Ma C'è stato tre secondi fa Come non c'è spazio adesso? Non c'è spazio Scusatemi Credo sia quello che gli dà fastidio Quindi Riproviamo un attimo Ok Tappeto sacco di stelline Non c'è spazio Non era quello allora Mettiamolo un po' più avanti Forse magari Non lo so Facciamo una cosa Eccolo qua Perfetto Però è carino da vedere Anche in casa È abbastanza simpatico Onestamente Ci può Ci può stare direi Una cosa del genere Quindi mi va benissimo Io qui ci metterei A questo punto anche Rimetterei anzi Il global plasma E poi ci vediamo anche Che cos'è Questo planisfero Sono molto curioso di Ah Alle pareti Alle pareti Vorrei metterlo Da quest'altra parte Però credo di dover fare il giro Esatto Vabbè Funziona Posso andarci Usa sulle pareti È il planisfero classico Va bene D'accordo È la cartina Classica Che Tanti di noi hanno visto Alle scuole O addirittura in casa Perché no Ma va bene L'importante È avercela Dopodiché Non credo ci sia Nient'altro qui Da prendere Ah Devo provare La ruota colorata Che secondo me Secondo me È una schifezza Ci proviamo Secondo me è bruttissimo Onestamente questa ruota colorata Ma proviamo a metterla qua Giusto per soddisfazione personale E vedere che cos'è Quanto è grande Che cosa sei Non ci credo E funzioni Ma dai Ah ma non ti fermi più Cioè se non ti fermo io E mi sono venute stelline Questo è carino Forse anche per giocare Insieme agli altri Mi sembra una cosa Piuttosto simpatica Onestamente da fare No? Non trovate? Ah Quella Come si chiama? Quello schema Che vedete in alto a sinistra È la Lampada caccialluovo Ce l'ho già Non so Se lo donerò a qualcuno Perché Se mi fate richiesta Ve lo dono volentieri Altrimenti Penso lo venderò Onestamente Ora Lì c'è gente Parecchia Poi Dovrebbe esserci Il nuovo arrivato Oggi Dulcinea No? Tu sei Attilio Ma anche ricordarsi Chi sono i personaggi Ora stai Pensando a diventare Un po' problematico Ok Dulcinea Andiamo a salutarla È arrivata oggi Esatto Quindi la troviamo in casa Il primo giorno Che i personaggi arrivano Si trovano sempre in casa Perché sono a spacchettare Ed è una cosa carina Che trovo molto carina Così almeno abbiamo il tempo Di salutarli Quanto è carina Pucciosissimo La mia prima visita Tu devi essere Axios Sono appena arrivata Qui a Gertrude E spero che mi aiuterai Un po' Nei primi tempi Oh Io mi chiamo Dulcinea Forse avrei dovuto Dirtelo subito Miele Miele Ci chiama Miele Quindi Giustamente Dulcinea Non preoccuparti Del disordine Che vedi È tutto sotto controllo Ok D'accordo Allora io ti lascio Alle pulizie Dulcinea Ci vediamo poi in giro Mi raccomando Fai la brava È simpaticissimo Carinissimo Sono contento Di aver avuto Abbastanza fortuna Con i personaggi Perché sono tutti I personaggi A parte Luc Che comunque Mi piacciono Sono felice Di averli Qui sull'isola Sono veramente Onestamente felice Di averli sull'isola Ora Salve Attila Come vanno le cose? Sembrava Bugs Bunny Che succede amico? Dimmi le novità Quando il tempo è bello Mi viene voglia di camminare Senza sosta Fortuna che non mi do mai retta Ok D'accordo Senti un po' Ma tu Che ci fai qui? Esatto È Florindo Quello Dell'aggiornamento In pratica Per la giornata Della natura Per la festa Il festival della natura Come l'hanno chiamato loro Salve Fiorellino E benvenuto Dimmi Sei di queste parti? E come ti chiami? Axios 00 Quello col punto esclamativo Mi ispirava di più Per quello ho scelto il primo Oh Axios Dici? È un nome che sprezza allegria Che non lo dica a tutti Ma sono dettagli Io sono Florindo Piacere Ho sentito che il mio caro amico Mirko Ha avviato un'attività qui Così ho pensato di fargli visita Da quello che mi hai raccontato Quest'isola Era un'isola deserta Prima che vi trasferiste qui Vero? Questa era un'isola deserta Chissà che avventura deve essere stata Venire a vivere in un luogo così selvaggio e incontaminato Ve lo ricordate ragazzi quando abbiamo iniziato? E qui non c'era niente C'era solo la nostra tenda Con la tenda di Tom Nook Era bellissimo E quella di Lou e Pashmina Che sono stati i primi due personaggi Che abbiamo avuto con noi sull'isola Ve ricordi però a riflessarci adesso Ho le foto Bellissimo Non dirmi nulla Scommetto che era invasa dalle erbacce Sì Però il bello di un'isola vergine è che è come una tela vuota in attesa di essere dipinta Ecco perché sono venuto qui carico di rari semi e cespugli di ogni tipo Sono le aggiunte Queste sono le aggiunte Voglio aiutarti a creare un paesaggio capolavoro In grado di donare gioia e allegria a tutti Cespugli? Cosa sono? Ottima domanda In effetti gira poca informazione sui cespugli Diciamo che sono come dei piccoli alberi O come dei fiori però più grandi Comunque sia La loro particolarità è che fioriscono in base alle stagioni E in questo modo il tuo giardino può diventare un triunfo di bellezza e allegria fiorellino A proposito il cespuglio del giorno è uno dei miei preferiti Con grande felicità ti presento La zalea Benissimo E pensa che fortunata coincidenza Fiorisce proprio in questa stagione Piantane un po' e vedrai che esplosione di colori In ogni caso E' stato un vero piacere conoscerti fiorellino Spero di rivederti presto Ok d'accordo Quindi lui ci vende fiori e cose del Non chiamiamolo del sim Ma del nuovo aggiornamento Di quest'evento Cosa posso fare per te? Allora vorrei fare Parliamo di erbacce Ah Lui compra anche le erbacce quindi Conosco bene la sensazione Inizi a strapparle e poi pensi Ma quando finirò mai? Esatto E' sempre così Vedi lo scopo del giardinaggio è solo uno Renderti felice e ottimista rispetto alla vita Axios Ecco perché ho deciso di acquistare le tue erbacce A un prezzo più alto di quello del mercato Se approfitti subito di questa offerta Ti pagherò il doppio di quello che ti darebbero Marco e Mirko Accidenti Cioè 20 stellini erbacce invece che 10 Beh non sono poche eh comunque E' un felice affare per entrambi Tu vieni compensato per il tuo duro lavoro Nell'estirpare le erbacce E io mi godo la tua isola immacolata E priva di tutto ciò che la infesta Ve le immaginate se arrivate qui con le erbacce Ancora tutte da estrarre Avete a togliere e gliele vendete tutti a lui Cioè ci prendete il doppio rispetto a quello Beh è un bel po' comunque il doppio in questo caso Rispetto a quello che vi avrebbero dato Marco e Mirko E' veramente tanto di più Wow Eh si guarda ce l'ho ce l'ho Si 19 erbacce Ah però 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 300 esatto Pulite pulite 380 stelline Va bene si si benissimo Avevo dato ve lo ricordate 250 mila Certo io non ho molti soldi al momento Dovrei forse andare a Fare una cosa Aspettate un po' Prima di vederci la merce Vado a far identificare I fossili A Blatero Così magari se ce n'è qualcuno doppione Lo vendo e ci facciamo un botto di soldi Oh Axios Avevo in mente di comunicarti le ultime Meravigliose notizie Grazie al tuo duro lavoro L'aiuto dei residenti di Gertrude Al loro sconfinato cuore Che succede ragazzi Sono arrivato qui da Blatero L'ho svegliato Ovviamente dorme di giorno È un gufo E Gli volevo dare i fossili E poi mi ha Dato questo Questa frase Mi ha parlato in questo modo Non l'aveva mai fatto Il museo potrà ora esporre Potrà esporre D'ora in avanti Un maggior numero di esemplari Dovrebbe essere l'aggiornamento Anche questo Perché c'è una cosa nuova Eccolo qui esatto A tal proposito Sto considerando la possibilità Di aprire una galleria Per esporre delle opere d'arte Dunque Se dovesse entrare in possesso Di una di esse Sarebbe fantastico Se me le mostrassi Esatto L'aggiornamento ci porta Anche le opere d'arte Ragazzi E Ci dovrebbe essere Un personaggio apposito Per le opere d'arte E non vedo l'ora Di trovarle onestamente Non vedo l'ora Di scoprire Chi è E soprattutto Di parlarci Perché chi è Lo so L'abbiamo visto dal video Di presentazione Dell'aggiornamento Però Voglio vedere che cosa ha Come funziona Eccetera Hanno veramente inserito Sembrano poche le cose Ma quando arrivate A giocarle Vi assicuro che Quello hanno inserito È tanto È tanto Davvero tanto Ok Sono arrivato qui A vendere I fossili Che mi sono avanzati Da blatero Cioè che ho doppioni E guardate un po' Indovina un po' Axios Ci sono delle grossissime Novità Dal momento Della nostra apertura La bottega di Nucca È goduta Di un successo strepitoso Credo che questo sia legato All'ampliamento Del negozio Però vi dicevo prima Le cose sono tante Per un motivo Perché sono Vanno tutti a toccare Quello che fate ogni giorno Giornalmente Quotidianamente Nell'isola E quindi anche Aggiungere poco 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 Significa moltissimo Perché avete un Quel poco Che avete in più Lo avete sempre Lo avete tutti i giorni E quindi alla fine Anche un piccolissimo Aggiornamento Che va a toccare La routine Diciamo così Quotidiana Di un gioco In questo modo È enorme Perché ti aumenta Il gioco Giornalmente Quotidianamente Ed è per questo Che sembra tantissimo Giusto per Chiosare Per concludere Un attimo Il discorso di prima Ma riposare sugli allori Non è il nostro DNA Abbiamo grandi progetti Per il futuro Già Abbiamo deciso Di ampliare Ulteriormente Il negozio I lavori Si svolgeranno domani Perciò il negozio Resterà chiuso Tutto il giorno Ci scusiamo Per il disagio Ma niente paura Riapriremo Già dopo domani Ok Va bene Quello sacchiotto È bel È il tipo Futon questo Mi sembra un futon Più che un salcappello Aspettate No No Che roba giappo Tutta roba giappo Di là dovrebbe essere Quello per mangiare Presum Fermi tutti Sono imploso Ok Mi piace la roba giapponese Come si può Vedere Più che vendere In questo caso Quindi Ah tra l'altro Non ho trovato La terza chiocciolina Quindi non mi è riuscito Di capire se Ivano Ti fa più statue Alla volta O meno Vi giuro Non mi è riuscito Per la verità Ne avevo trovato Un'altra E non sono riuscito A chiacchiappare Voi direte Come hai fatto a mancare Una chioggia L'ho mancata Ma non vi preoccupate Tutto regolare Mi dispiace Nel caso Non ho potuto Rispondere alla domanda Possiamo fare più Opere d'arte Alla volta Non lo so Bene Yes 24.000 stelline Quando vi dico Che i fossili Effettivamente Fanno fare soldi È questo Che intendevo Ora Se questo è un futon Lo voglio Sì Futon è srotolato Va benissimo Sì sì Quanto? Bah 1.6 Vieni qua Fare fatto Ci prendiamo il futon E Questo qui dovrebbe essere Il Il bento Non Letto tatami Ah perché Ah il letto Quello Pensavo fosse la cosa Per mangiare Perché Sembra la tovaglietta Sembra una tovaglietta Detta così Questo costerà di più Immagino 2008 Ma sì Dai Compriamoci anche il tatami Ma sì Il letto tatami Va bene D'accordo Ok L'orsacchiato Onestamente Mi fa abbastanza Cioè Mi ispirava Però visto così È quasi peggio del normale È un po' Troppo alto Il busto Avesse avuto meno busto L'avrei comprato Cioè fosse stato più basso L'avrei comprato Così non sembra molto un peluche Sembra più una cosa strana Eviterò Eviterò Allora Arriviamo al dunque Cioè Che cosa vendi tu Fiorindo Anzi Florindo Ecco Florindo Vorrei fare acquisti Semine germogli che ho in vendita Vediamo Tocchiato quanto li fai Allora Zalè bianche Rosa Camelia rosa E camelia rossa Sono bellissimi Questi Se sarebbe da fare scorta Incetta sicuramente Lui dovrebbe stare qui fino al 4 Quindi avremo tempo comunque di comprarli Ma guardate Cosmea Cos'è la cosmea? Non so neanche cos'è la cosmea Tutti i colori di cosmea in pratica Bianca Gialla E rossa Poi abbiamo i crisantemi Bianchi Gialli E rossi Questo è ciò che ci vende Florindo Onestamente Mi piacciono tutte Sì Ok Disponibile anche in lotti Da 5 Allora Momentaneamente Ne prendo 5 No sapete perché? Perché volevo Vederli con voi Più che altro Vederli piantati Diciamo che provo Questo E questo Giusto per Sperimentare un attimo Questi due oggettini Che andiamo a Ehm Per comprare adesso Qui Grazie a questo nuovo aggiornamento Chissà se poi Negli altri festival Negli altri eventi Aggiungeranno altre cose Da comprare Intendo cose del genere Nella vita Devi fare ciò Che ti rende felice Se dovessi cambiare idea Sai dove trovarmi Fiorellino Ok D'accordo Grazie Procederò a piantarla A breve Però Anche per vedere Un po' come stanno Come sono Come Sembrano Ora Quello che volevo fare io È un'altra cosa È che Ci sono In teoria Già da oggi Dovrebbe esserci Dei personaggi Supplementari Visto che appunto Blatteron Mi ha parlato Delle opere d'arte E Visto che Nel video Quello delle opere d'arte Sembra Chi sei Sembrava in mare Mi piaceva fare così Cicciola Ciao Mi sono mancato Le nostre chiacchierate Forse tu le evitavi No Ho temuto che fosse successo Qualcosa dispiacevole Fra di noi Ma mi sono sbagliata Per fortuna sei tornato Ok Perché da tanto Non ci rivedevamo Mi dispiace Poverina Poveraccia Ok è brutto Però quando si sta tanto Senza parlare con loro Perché ti Gli manchi E quindi magari Pensano che tu Vabbia litigato con loro Mi dispiace Non Sto trovando quel personaggio E non c'era Dall'altra parte Quindi Forse Appare Ogni tanto In tanto È probabile Sto parlando Sto parlando Di quello che si chiama Se non erro Volpolo È un volpoide Comunque E ci dovrebbe Vendere Appunto Opere d'arte Mi piaceva Trovarlo con voi Ma presumo Che tutto ciò Non sarà possibile Ahimè purtroppo Quindi Vediamo un po' Magari A brevissimo Di piantare Queste piante Ormai Da un'occhiata Veloce all'isola Eh ragazzi Dai Vediamo un po' Di dare Un'occhiata Insieme così No Ce la vediamo Un po' Tutta Le coste Della nostra isola Le vostre Sono fatte Nello stesso modo Sono fatte identiche Giusto per saperlo Perché onestamente Non ne ho la benché minima idea Di com'è fatta Effettivamente Un'altra isola Sulle coste Non ci ho mai fatto caso Gli ho visti i soldi Eri sopra Allora Piantiamo stice spuglie Tipo Tipo Ma se io lo pianto fuori Dovrebbero rimanere lo stesso Tipo se io lo pianto qua Uno Qua su Allora Vediamo Certo potrei addobbare Una zona Con questi Fiori Da lasciare Poi Qui c'è un fossile Tanto per abbellire un po' il tutto Tipo questo è abbastanza spoglia Qui Io ci metterei Sti cespugli Allora Dove sono i cespugli? Eccoli qua Germogli di azalea bianca Piantane uno Ah Quindi sono germogli Perciò li pianto uno alla volta Cioè Non so Nel senso Aspetta Oggi non riesco a spiegarmi Nel senso che Crescono uno alla volta Giustamente Giustamente Ok Mi va anche bene così Vedremo i frutti Andando avanti nel gioco In pratica così No Non volevo piantarlo qui Lo volevo No Posso ritoglierlo Senza disintegrarlo Quando è seme Si si può fare No? Se io lo trapianto Esatto Qui ci piantiamo Questo Ok Va bene così E l'altro Dove me l'ho messo Sono tre tutte e due Ah è questo Piantina di azalea Ah me la dà già come piantina Me l'ha già nominata Figo Fighissimo Potremmo fare un'entrata del museo Come si deve Grazie a queste cose Magari togliere questo ceppo Che effettivamente Non è che sia il massimo della vita Però possiamo farlo Potremmo farlo Più avanti Ok Io la roba l'ho piantata Vedremo un po' Quando crescerà Vi ho mostrato un po' Una parte di quello Che effettivamente Si va ad aggiungere Grazie A questo nuovo aggiornamento Un palloncino Era una vita ora Che non trovavo palloncini ragazzi Da Credo Gli abbiano diminuiti Effettivamente Prima ve lo ricordate Passavano Con una quantità Imbarazzante Con un ritmo imbarazzante Nel senso che ogni tre per due C'era un palloncino Che passava sopra di noi Invece così 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 E da veramente Da tanto 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 Che non passavano Tra l'altro Prima di salutarci Imbacheca Lavori di ristrutturazione Grazie al vostro sostegno Potremo rinnovare il negozio Per portare a termine i lavori Resteremo chiusi Il giorno 24 aprile Bottega di Nook Ok Ci viene detto infatti Imbacheca questa cosa Bellissimo Per questo episodio Io vi saluto qui Spero vi sia piaciuto Spero che queste novità Vi piacciono Spero vi divertiate ancora di più Su Animal Crossing New Horizons Vi ricordo se vi va Di lasciare un bel like al video Se il video vi è piaciuto Di condividerlo sui vostri social Ovviamente se vi va Se vi fa piacere E noi ci vediamo alla prossima Ehi 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 Fermi Fermi Che cosa vende con le miglia di Nook Non abbiamo visto Ci hanno detto che ci sono Nuovi oggetti in vendita Grazie alle miglia di Nook Ma Non sono venuto a vedere Che cosa c'è in vendita Perché io ho un po' Di miglia di Nook Come vedete Quindi Magari Vedere che cosa c'è Non è male Allora coupon stelline Coupon miglia di nook Ok Ma non c'era un nuovo coupon in teoria Questi sono tutta roba che Mi sembra di aver già visto Il silo tra l'altro non è per niente male Lampioni Mamma mia quanta roba Distributori Wow Non è di questo colore ovviamente Non è neanche fatta così per la verità Ma è abbastanza inglese Gabio per arrampicarsi Pannelli solari Fari, piscine Camice Dov'è la roba nuova? Speciali No Eppure ci ha detto che ci sono Cose nuove se non ho capito male No Grazie alle miglia di nook in questo evento Forse ho visto male io Sono un attimo perplesso riguardo a tutto ciò Comunque per questo episodio noi ci salutiamo qui davvero stavolta E quindi alla prossima con Animal Crossing e New Horizons Ciao 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 Ciao